Come sapete in settimana è stato approvato in Commissione Giustizia al Senato il testo base sulle unioni civili. La strada per avere una vera e propria legge su questa materia è ancora lunga e accidentata perché come sapete ci vuole due passaggi sia in Senato che alla Camera. Più modifiche arrivano e più passaggi si devono fare ma questo è insito nel nostro sistema di bicameralismo paritario lo sappiamo benissimo e anche per questo lo stiamo modificando. Le prime reazioni che si sono registrate c'è quella scomposta della CEI per bocca di Monsignor Galantino che vedete qua che ci ha parlato di una forzatura ideologica l'approvazione di questo testo. A lui ha risposto molto pacatamente e sobriamente la senatrice Cirinna che ringraziamo per il grande lavoro svolto fino ad oggi che gli ha risposto che giustamente lei si occupa di leggi e non di peccati. L'unico commento che mi viene in mente non può essere che questo. 92 minuti di applausi